La nostra proposta è chiara e poi si non muovo a stare si non muovo a stare si non muovo a stare ma non mi fa Goppe! Ci peste che la prende l'angoppe! Ah, giusto! Guarda, dove devi fare? Chi vuoi fare? No! Ah, no! Ok! Ok! Occhio! Ok! Oh, c'est pas ça! Qu'est-ce pas ça? C'est pas ça! 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 Le salon de Bucquelicot, Oh Qua che basso Ma alla grande va Come prima Adesso tutti che studiiamo Ah Buonissimo Buon 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 Grazie a tutti